ben trovati amici di Radio News 24 siamo Soner io sono Elisabetta Faraglia adesso andiamo a Parma per incontrare eh Paolo Cericola che è il presidente della scuola di respiro ben trovato ciao creatura meravigliosa ciao Elisabetta meravigliosa grazie allora eh Paolo allora ti do del tu ehm lancio la prima parola per trovarti più rapidamente su tutti i canali social che è hashtag scuola di eh respiro Parma e allora spieghiamo iniziamo parlando un attimo a co della della scuola di respiro cosa fate quali qual è il percorso anche di studio portato avanti sì scuola di respiro lavoriamo ovviamente con il respiro e ho cominciato personalmente a trentacinque anni fa con il rebirthing questa tecnica di origine americana e che ha girato tutto il mondo e mi ha sconvolto la vita poi negli anni in tutti tutti gli anni in cui ho sperimentato sono arrivato a scoprire quello che oggi come oggi chiamo respiro originario cioè qualcosa che noi abbiamo nel nostro DNA da milioni di anni e che purtroppo perdiamo proprio il momento della nascita per il modo di far nascere i bambini e quindi stiamo cercando di far recuperare questo modo di nascere a alle persone che sono interessate a scoprire quanto si portare bene o meravigliosamente bene. Allora hashtag respiro originario Parma adesso spieghiamo bene a chi ci sta ascoltando su Radio News 24 a chi verrà a vedere questo video che potrà anche condividere su tutti i canali social eh che cosa significa respiro originario e come fare per fare questo ritorno no all'origine? Sì allora cosa significa respiro originario? L'ho chiamato così ma in realtà c'è poco da chiamare la natura ha avuto milioni di anni di tempo per fare le cose per fare questo meraviglioso corpo ogni funzione di questo meraviglioso corpo così è come anche il respiro e praticamente la natura fa le cose in maniera molto semplice il più semplice possibile e cercando di ottenere più energia possibile e il respiro fa parte di queste cose solo che purtroppo per il modo di far nascere i bambini come dicevo prima come accennavo prima e questa cosa viene smantellata proprio alla nascita perché la prima cosa che viene fatta appena il bambino viene fuori dalla pancia della mamma generalmente è chiudere il cordone umbilicale tagliare lavare pesare fare tutte le prassi che conoscono ma non sanno i danni che combinano all'essere appena arrivato perché se questo non respira perché c'è paura e qui sotto non arriva dove c'era il cordone umbilicale non arriva più rifornimento l'essere è immediatamente in pericolo di vita o di morte in pericolo di morte diciamo ecco la cosa si dovrebbe fare ecco aspetta che ti dico un altro passaggio che la maggior parte delle persone non sa e neanche dei medici e quelli che lo sanno non si sa perché stanno zitti e che oltre a questo taglio quindi sei in pericolo di morte immediato se non respiri quindi se respiri provi qualcosa di molto forte e quindi la gente respira lo stretto necessario per sopravvivere non per dire sopravvivere poi sono quelli che trattengono il respiro molto più a lungo diventano cianodici e quelli che stanno intorno si spaventano quindi lo prendono per i piedi lo sculacciano dentro l'acqua fredda dentro l'acqua calda le punture di tutto di più per farlo respirare farlo piangere proprio immaginare che se io adesso vengo da te ti prendo per i piedi ti metto a testa in giù e ti sculaccio cosa potresti dirmi mi dici Paolo dammene ancora che mi piace un casino oppure c'hai qualche cosa che gira forse sì a parte questo trattamento c'è un'altra cosa che è molto importante fra l'altro a parte di rimanere senza respiro ma quando ti tagliano il cordone ombelicale il 30 35 per cento del tuo sangue rimane nel cordone ombelicale nella placenta ora a un donatore di sangue più del 10 per cento non possono togliere per legge è un bambino piccolo appena lato gli puoi togliere il 30 35 per cento del tuo sangue quindi stai morendo senza respiro stai morendo di sanguato ti pigliono schiaffi benvenuto sul pianeta terra creatura meravigliosa estremamente è un trauma questo è un trauma molto forte poi chi più chi meno insomma ma le fondamenta queste sono le fondamenta della casa e che sono messe in questo modo qui praticamente non sono messe in piano e tutto questo la scienza lo sa cioè i medici lo sanno io non credo non c'è questa consapevolezza se lo sanno forse razionalmente ma a livello fisico profondo non l'hanno sperimentato non hanno comprensione capiscono ma non comprendono perché come fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare lo devi attraversare il mare per comprenderlo però paolo per chi poi è cresciuto c'è la possibilità di ritornare a quel respiro originario no laddove non è stato fatto ciò che magari doveva essere fatto quindi con approccio più naturale un'accoglienza diversa diciamo e si può ritornare lì si può ritornare certamente non è una passeggiata perché dopo che sei stato abituato per una vita 20 30 40 80 anni a respirare in quel modo non è che è una passeggiata a cambiare lo schema di respirazione però si può fare ce l'abbiamo nel dna quindi si tratta di andare giù in cantina a ravanare da qualche parte ce l'abbiamo si tratta di rimettere in moto quel motore praticamente e quando si mette in moto quel motore gli effetti sono immediati si sente immediatamente già fin dalle prime sedute dalla prima seduta per molte persone si sente il beneficio che c'è perché ti dà una forza un'energia e un benessere tale che molti si spaventano di stare così bene certo ma ognuno ha la sua chiave o c'è un sistema? sistema c'è ma ognuno ha la sua chiave perché il problema più grosso non è il problema del respirare in un certo modo piuttosto che in un altro il problema più grosso siamo noi perché la paura è dentro di noi non è fuori di noi e quello che ci fa paura ci spaventa è dentro di noi quindi se uno ha paura non vuole guardarsi le sue cose è difficile che ne venga fuori però chi ha un po' di coraggio e comincia a sperimentarsi scopre che wow ma il mondo è meraviglioso così come la vita è meravigliosa davvero interessante poi oggi più che mai quello no in questo momento ma non solo sempre ma anche in questo momento anche in questo momento soprattutto in questo momento dove la gente è spaventata e quando uno ha paura cosa che fa cosa che blocca la prima cosa che si blocca quando uno ha paura qual è il respiro bravo esattamente quando prendi un grosso spavento dici sono rimasto senza fiato dalla paura ok e quindi la gente adesso è spaventatissima con tutto quello che stanno combinando in giro è spaventata non respira fra l'altro mette anche la mascherina addosso che peggiora ancora di più la situazione e la gente sta impanicata infatti psicologi e psichiatri hanno hanno il piede non sanno più dove mettere le persone perché la gente è spaventata ma se la gente non respira non ne vieni fuori una cosa che voglio dire che è importantissima è che il 70 per cento della disintossicazione del corpo avviene tramite il respiro questo non lo dice Paolo Ceriva lo dice la scienza basta guardarsi in giro andare a cercare 70 per cento della disintossicazione del corpo avviene tramite il respiro e se tu stai respirando lo stretto necessario per sopravvivere quanto inquinamento hai dentro di te se respiri di più intanto potenzi potenzi il tuo essere le tue difese immunitarie e vivi più felicemente allora Paolo lancio un'altra parola hashtag crescita personale Parma perché tutto questo ovviamente implica una crescita personale un lavoro di introspezione dimmi se sbaglio e di lavoro su se stessi no quindi di consapevolezza di una coscienza maggiore perché per arrivare appunto a questa origine e e allora il nostro tempo a disposizione vai con dimmi sì volevo volevo dire questo che non sono soltanto a Parma lavoro anche a Roma e in tutta Italia perché adesso ultimamente in questi ultimo quest'ultimo anno e mezzo sto lavorando online quindi per chi vuole può fare anche sedute online se hai un computer portatile e una linea internet allora e adesso noi diamo tutti i tuoi riferimenti dove chi ci sta ascoltando su Radio News 24 e anche chi ovviamente verrà a vedere questo video che puoi condividere può venire a vedere i tuoi recapiti contattarti venire vedere anche tutto quello che ovviamente pubblichi quindi ricordiamo la pagina Facebook che è scuola di respiro la pagina Instagram che è la tua pagina paolo.cericola poi ricorda tu il sito web e anche YouTube. Allora il sito web è www.scuoladirespiro.org YouTube è scuola di respiro e poi c'è anche il sito acquamica per chi vuole che ha paura dell'acqua oppure libero dal panico per chi soffre di attacchi di panico.it acquamica e libero dal panico.it. Paolo ti ringrazio di essere stato con noi e di averci raccontato questa tua storia grazie. Grazie a te e ciao a tutti, creature meravigliose. Voi amici di Radio News 24 rimanete con noi perché le storie continuano a suonare.